Alexa, accendi condizionatore. Alexa, spengi condizionatore. Grazie. Ciao a tutti e benvenuti qua sul canale. Oggi ho qualcosa di davvero speciale, un piccolo dispositivo a basso costo che fa cose, a mio avviso, utilissime in casa vostra, soprattutto anche con i vostri vecchi prodotti tech. Io sto parlando di lui, ovvero di Wox, un controller intelligente che mi sono preso su Amazon per programmare e comandare in modo smart il mio vecchio condizionatore d'aria, ma questo è un dispositivo che promette di rivoluzionare il modo in cui viviamo il comfort domestico, non solo, esempio, con il condizionatore, ma anche con altri apparecchi che vedrete in questo mio contenuto. Ma la notizia migliore è appunto che io l'ho pagato su Amazon meno di 60 euro perché vedo c'è ancora un coupon sconto del 40%, cioè non è un coupon mio, è proprio un coupon da Amazon. Io me lo sono preso proprio grazie a questo coupon e ho deciso, visto che mi è garbato un casino, di raccontarvelo nel canale subito, così magari approfittate anche voi dello sconto finché c'è e magari lo acquistate dal mio link Amazon così mi date un piccolo aiuto al canale insieme, se volete, ad un like e a un'iscrizione qua da Biganet se ancora non siete iscritti. E dunque vi racconto tutto, arriva in questa piccola scatolina, vedete, se si va a aprirlo è molto semplice, sono semplicemente dei cavi, c'è il suo piccolo supporto che è questo qua, vedete, eccolo qui e questo è tutto quello che serve. È tutto qua e come vedete passiamo il cavo qua sotto e poi è calamitato e ci sta qua esattamente, vedete, sul nostro tavolo. E' semplicissimo da installare, non ci vuole niente perché questo Wax controller non è di fatto un semplice teleomando ma trasforma, per esempio, come vi ho detto, un condizionatore d'aria tradizionale in un dispositivo intelligente, voi potete controllarlo da remoto tramite l'app Wax che è disponibile sia per Apple che per Android e gestire tutto direttamente dal vostro smartphone. Ma non è tutto perché questo dispositivo è dotato anche di sensori di temperatura e umidità svizzeri con un display a LED che vi permette di monitorare lo stato del vostro ambiente con precisione. Addirittura a me in questi giorni mi ha avvisato anche che c'era troppa umidità nel mio ambiente. Io l'ho installato in modo velocissimo sul mio vecchio condizionatore Mitsubishi e funziona da dio. Ma soprattutto installarlo è la cosa più banale che esista. E in che modo si installa? Semplicemente dopo aver scaricato l'app sul mio smartphone ho collegato il dispositivo alla rete elettrica e ho seguito i semplici passaggi per configurare proprio il mio vecchio condizionatore di un bel po' di anni fa e lui me l'ha riconosciuto subito e ora posso accenderlo a distanza. E il mio vecchio telecomando ormai obsoleto è diventato un ricordo da quando ho lui. Lo posso ovviamente anche comandare da fuori, per esempio mentre torno a casa dal lavoro, lo accendo e trovo l'ambiente alla temperatura ideale, cosa che non facevo prima. Ma non solo, posso addirittura programmarlo quando si deve accendere e spengere e a che temperatura deve portare l'ambiente circostante. Ovviamente le impostazioni del vecchio radiocomando mi consentivano di farlo ma era davvero logorroico. E questo è semplicemente praticissimo. Ma le sorprese sinceramente non finiscono qua perché con questo aggeggino, con lui, ho potuto anche collegare altri apparecchi di casa mia. Ad esempio il televisore del soggiorno, il televisore di cucina, il decoder SkyQ. È tutto controllabile direttamente da una sola app, comando o qualsiasi cosa. Inoltre, grazie all'apprendimento del codice infrarosso migliorato, il dispositivo è compatibile con una vastissima gamma di marchi e modelli, di vari condizionatori anche vecchi. Il mio è l'esempio lampante. Per rendere comunque poi tutto più futuristico, avete visto all'inizio del video, io cosa ho fatto? L'ho configurato, ho configurato Wox con Alexa e ora se appunto entro a casa e dico Alexa accendi il condizionatore o Alexa accendi il televisione in soggiorno oppure Alexa metti il canale X o accendi SkyQ e tutto si attiva in modo automatico e la magia della domotica è diventata di fatto alla portata di tutti per ogni tipo di casa e con una semplicità pazzesca anche per chi non ha l'esperienza di fare attacchi o quant'altro. Con lui è veramente banale. Ma vediamolo proprio nel pratico in azione. Vedete? Questo è il nostro Wox, abbiamo il mio piccolo computer SkyQ, abbiamo là dietro la piccola Alexa, la mia prima Alexa che si attiva come potete vedere e le diciamo questo. Alexa accendi TV soggiorno e ci va accendere intanto il TV soggiorno, ma eccolo qua, vedete? Bene, SkyQ è spento. Alexa accendi SkyQ. Ok, e Alexa ci ha attivato queste cose se le toglie di SkyQ, ok? Perfetto. Ma facciamo qualcosa di ancora più interessante. Diciamogli, Alexa, metti canale 201 SkyQ. Mi pari con bagnaia e con il solito inserimento di quella come lui, è particolarmente scavato. Perché tu la pensi in un modo, ma poi la macchina... Alexa, accendi, condizionatore, soggiorno. Mi aggine e corre per la classifica, diciamo, di categoria, ma non per raccogliere punti. A questo punto va in alto. Dunque, sono entusiasta di avervelo raccontato, di avervelo fatto vedere nel canale e non potrei essere più soddisfatto per quelle che erano le mie aspettative prima di acquistarlo. E ho unito, di fatto, la comodità e la tecnologia in un sistema di domotica semplicissimo a casa mia con un prezzo assurdo. 60 euro, cioè pochissimo. Se volete saperne di più o acquistarlo, trovate il link sotto in descrizione del video. Non dimenticatevi di darmi un like, lasciate ovviamente un segno al mio contenuto con un pollice in su e iscrivetevi se ancora non lo avete fatto. Io sono Ibighe e mi diverto con la tecnologia, ovviamente, qua su YouTube. Ciao, alla prossima.